Ho fatto delle cose molto brutte. Dimmela. Pensavamo di aiutare gli altri, ma ci sbagliavamo. Il tiratore designato sei tu, G. È l'errore più grosso che abbia mai fatto. Perché sei qui? Qualcuno voleva uccidermi tre giorni fa in Congo. La compagnia sta eliminando i testimoni. Devi smascherarli. Non hai altra scelta. La nostra missione non è mai cominciata. Sono stato chiaro. Sappiamo che lei ha delle informazioni. Ho registrato praticamente tutto. Lo sputerò dove il mondo potrà vederlo. Che la vera caccia abbia inizio! Sei tu l'ultimo testimone da eliminare, Jim. Allora la nostra conversazione finisce qui. Grazie a tutti!